Ciao a tutte, ciao a tutti. Questo è uno dei video realizzati dai facilitatori e dalle facilitatrici dei gruppi di lettura della Biblioteca Civica Brugherio e abbiamo deciso di fare questi video nel tentativo di sentirci meno soli e meno sole durante questo periodo di quarantena. Per prima cosa volevo parlare degli appuntamenti del gruppo di lettura Potere alle donne tutti insieme, la costruzione dell'identità femminile nel fumetto. Allora, per prima cosa non ci possiamo incontrare l'11 marzo, non ci siamo potuti incontrare l'11 marzo, spero che però tutti e tutte siano riusciti e riuscite a recuperare Smile di Reinald Telgemeier, che era il fumetto di cui avremmo dovuto parlare e spero che sia piaciuto a tutti e a tutte. Per quanto riguarda invece il prossimo appuntamento, che è quello di aprile, incontreremo Roberta Mighelli, che è un'autrice che ci parlerà dei retroscena del mondo del fumetto in quanto fumettista. Penso che sarà un incontro molto piacevole sia per chi non frequenta i gruppi di lettura, sia per chi li frequenta e soprattutto penso che sarà un modo nuovo di rivedersi dopo tanto tempo, in cui potremo sicuramente parlare di tante cose, anche della noia, ma ne parleremo sicuramente. Poi, per quanto riguarda le letture del mese successivo ancora, cioè di maggio, avremo dei fumetti che sono dedicati al giovinezza e se riuscirete a recuperarli già prima dell'appuntamento di aprile, meglio. Questo perché così riuscirete a passare il tempo in modo più spensierato. Tuttavia la biblioteca rimane chiusa fino alla fine di questa quarantena, quindi anche se non riusciste a recuperarli non importa. Io vi consiglio comunque di continuare a leggere, continuare a leggere fumetti. Online ci sono numerosissime risorse in merito e molte case editrici, come anche molti autori e autrici, stanno mettendo a disposizione dei loro fumetti per far passare il tempo in modo più spensierato. Quindi io vi consiglio di curiosare sul web perché molte risorse sono state rese gratuite, soprattutto in formato ebook. Dalla biblioteca inoltre si possono anche recuperare degli ebook, quindi per chi volesse leggere qualcosa di diverso da un fumetto, perché non abbiamo fumetti in ebook, lo può fare. Un'ultima cosa che ci tengo a sottolineare, per chi conosce Simone Sansevere, è un fumettista che è di Brugherio e ha iniziato questa quarantena challenge sul suo profilo Instagram. Il suo profilo è momosunset, ve lo dico così come proprio è scritto, in modo tale che sia più facile da ricercare. In che cosa consiste? Simone ogni giorno pescherà da dei bigliettini, delle attività che si possono fare per cercare di sopportare anche questo periodo di noia. Io vi consiglio di approfittarne perché vi darà modo di fare delle attività che forse quotidianamente non fareste e scoprire una passione nuova. Quindi a questo punto io vi saluto virtualmente con abbracci e baci di pixel e ci rivediamo ad aprile con l'appuntamento dei gruppi di lettura. Ciao!